Un impegno con dedizione contro un'istituzione organizzata, cosa nostra, cosa vostra, cosa è vostro. Non è un stico! È solo un mafioso, uno dei tanti! È il nostro padre. Mio padre! La mia famiglia! Il mio paese! Io voglio fodermene! Io voglio scrivere che la mafia è una montagna di merda! Ma cosa? Non sono un infame. Non sono un pentito. E non ho tradito cosa nostra. È cosa nostra che ha tradito se stessa. Ho capito. Mi usa la cortesia di togliersi gli occhiali? La vorrei guardare negli occhi. Con cui sta parlando Pruscetta? Con Falcone. Falcone? Sto nome non mi piace. È di bestia cattiva. Totò, se Masino parla sono guai. A Masino gli sbirri brasiliani ne hanno sappato le unghie e non ha detto una parola. Masino non ha parlato perché è uomo d'onore. Ma ora può essere che ci aveva il cuore avvelenato e aveva più rispetto per Falcone che per noi. Ho fiducia in lei, giudice Falcone. Come ho fiducia nel vicequestore De Gennaro. Ma non mi fido di nessun altro. Non credo che lo Stato italiano abbia veramente l'intenzione di combattere la mafia. E l'avverto, signor giudice, dopo questo interrogatorio lei diventerà famoso. Ma cercheranno di distruggerla fisicamente e professionalmente. Pure a mia faranno la stessa cosa. Non dimentichi che il conto che ha aperto con Cosa Nostra non si chiuderà mai. È sempre del parere di interrogarmi? Assolutamente, Buccetta. Se vuole cominciare a scrivere. Mi chiamo Tommaso Buccetta. E sono un uomo d'onore. A Massino gliel'abbiamo spiegato bene che cosa ho rispetto. L'onore non è una cosa che va e che viene. Se c'è, c'è. Marina è il capo di tutto, dottore. Non vi lasciate incantare le sue facce da vedrano. Tu e prestino quando è pupo si sente puparo. Cosa Nostra è fatto come una chiesa. Alla base ci stanno i soldati. I soldati sono organizzati in decina. Le decine sono comandate dai capi decina. Che sono le colonne. E le colonne reggono la cupola. Totorino è cominciato come un soldato. E oggi sta sulla cupola. Comanda a tutti. Ai capi famiglia. Ai politici. Ai banchieri. Ai poliziotti. Pure a voi. L'hanno chiamata guerra di mafia. Non è stata una guerra, dottore. È stato un massacro. La caccia all'uomo scatenata dai corlionesi. E Salvatore Rina la mette. Giudice Falcone. Poi c'è quella bestia di Bernardo Provenzano. E Peno Scarpuzze e Luquino Bacarella sono in braccio. Lasciate perdere Liggio che è un povero buffone. Loro hanno ucciso il colonnello russo. Loro hanno voluto la morte di Terranova. E Toto Ucorto che ha imposto alla commissione l'assassinio di Piersanti Mattarella. È sempre Ucorto che ha fatto uccidere il capitano Basile, l'onorevole Pio Latorre e il procuratore Scaglioni. È lui che ha organizzato la morte di Dalla Chiesa. Per fare un favore a qualche politico di Roma.